amici di vice 99 fishing eccoci qui in questo tutorial dove andremo a vedere come effettuare un nodo non nodo su un amo da occhiello come potete vedere allora situazione classica veramente da carp fishing per un finale di carp fishing allora prendete uno spezzone di filo fate una piccola sola che io in questo caso ho già preparato prendete il capo del filo e lo inserite nell'occhiello dalla parte dietro della coppia poi andate a stabilire in base alla distanza che volete mantenere tra il gruppo delle boilers e la curva del lamo ecco stabiliamo diciamo questa distanza e a questo punto andate ad effettuare almeno 10 spire intorno al gambo in questo modo 6 7 8 9 e 10 avviciniamo le spire all'occhiello e a questo punto reinserite il capo sempre da dietro quindi dalla gobba dell'amo nell'occhiello andate a serrare e il nodo non nodo è ultimato eccolo qui più tirate e più si autoserra quindi è micidiale è stupendo è un nodo semplicissimo in realtà si dice non nodo perché praticamente si serra da solo è veramente spettacolare l'efficacia anche viene testata dal fatto che andando a serrare facendo la prova con la mano in qualsiasi modo tirate anche se lo rigirate l'amo alla fine si va sempre a posizionare in modo che aggancia in questo caso il dito nella realtà il labbro inferiore della carta in qualsiasi modo lo mettete quando tirate l'amo da solo si gira in posizione giusta in modo che la punta va a prendere il labbro inferiore della carta con questo è tutto con questo tutorial abbiamo visto il nodo non nodo al prossimo video fatemi sapere cosa ne pensate mettete tanti like iscrivetevi al canale un saluto a tutti dal vice ciao